Oggi parliamo delle nuove frontiere del ringiovanimento nel campo della medicina, quindi quali sono le novità in questo settore. E lo facciamo insieme a un nostro gradito ospite, il professor Antonio Monti. Benvenuto, buongiorno. Grazie. Direttore scientifico del mare termale bolognese e già professore di anatomia all'Università di Pavia. Allora, le faccio una domanda un po' particolare. Si può fermare oggi l'invecchiamento? Si può fermare oggi l'invecchiamento in maniera tale e superiore a quello che si poteva fare nel passato. Io mi ricordo che 30 anni fa andai a Londra a vedere un certo dottor Stephen che faceva delle cure contro l'invecchiamento. E effettivamente erano cure mirate, eccetera, eccetera, però erano molto più grossolane di quello che invece si può fare oggi. Oggi perché si possono fare delle cure particolari? Perché oggi si possono utilizzare dei prodotti e anche dei farmaci che hanno lo stesso dosaggio che noi abbiamo nel sangue. Per esempio, io voglio sapere il T3, quindi diciamo l'ormone tiroideo. Io lo trovo nel sangue. Allora, il dosaggio che è nel sangue si riesce a portare anche in fiala. Tanto per intenderci e farci capire. Quindi a questo livello, riuscendo a avere dei bassi dosaggi con delle tecniche particolari che sono state studiate in Germania, è chiaro che si possono fare delle cose favolose. Ecco, per esempio, una delle cose importantissime è la cosiddetta sincronizzazione ormonale oppure neuroendocrina, ci sono vari nomi. Cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo momento, quando noi nassiamo e siamo in piena salute e stiamo bene, allora abbiamo l'ipotalamo, abbiamo l'ipofisi, abbiamo la tiroide, abbiamo le surrenali, abbiamo le gonadi, cioè su tutti gli ormoni, quindi le ghiandole e gli ormoni che funzionano insieme in sinergia. Poi cosa capita? Capita che l'età, quindi il discorso dell'invecchiamento, allora la tiroide funziona di meno, l'ipofisi non va bene, la melatonina non c'è. Allora pian pianino questa sinergia viene a meno e allora ricominciano i guai. Cominciano i guai e comincia il discorso dell'invecchiamento precoce oppure dell'invecchiamento molto forte. Delle volte si trova della gente, delle persone che si presentano bene, li vedo dopo un anno, sono disastrate. Un'altra causa non è qual è, un'altra causa per esempio è lo stress. Una persona che vive in continuazione il livello di stress, per esempio cosa mi fa? Mi va a stimolare troppo il cortisolo, il cortisolo va per i fatti suoi, la sua renale e non lavora più in sintonia, in sinergia con l'asse neurormonale. Un altro problema quale può essere? Può essere il fatto di avere una malattia. Uno si ammala, si ammala per sta grave, per tre settimane, febbre molto alte, eccetera, eccetera, ha un trauma e qualsiasi causa particolare può veramente sconquassare e toglier via questo sinergismo. Certo, quindi destabilizza questo equilibrio. Destabilizza questo asse neurormonale, da cui dipendiamo tutti. Allora, come si fa? Ecco che a questo punto, grazie a questo fatto di questi dosaggi, bassi dosaggi, con questa tecnica particolare, si può riuscire a risincronizzare l'asse neurormonale. Le do un altro esempio che è molto importante. Oggi si parla tanto della melatonina. La melatonina è molto importante perché noi, è quella che ci porta avanti fino ai 12-15 anni, poi comincia a calare, arriva ai 45 anni che ormai funziona più poco. Ma se noi abbiamo un certo stile di vita, perché? Perché la melatonina nel nostro cervello comincia a lavorare alle 9 di sera. Sarebbe molto interessante studiare questi sistemi, per cui alle 9 di sera bisognerebbe vivere al buio, perché la melatonina lavora la ghiandola pineale e genera la melatonina se stiamo al buio. E la melatonina stimola il ciclo circadiano. E quindi gli ormoni funzionano bene sotto la guida della melatonina. E allora, se invece uno alla notte sta sempre sveglio e a un certo momento troppa luce di tutto il giorno, è chiaro che questa melatonina lavora poco. Oggi siamo in grado di andare a stimolare la pineale attraverso queste forme di bassi dosaggi, eccetera, per cui riusciamo a lavorare sulla melatonina. Ecco, la grande barriera nuova della medicina e anche della medicina estetica, perché l'invecchiamento della pelle, perché l'ingrassamento, per esempio, l'ingrassamento a livello delle natiche, l'ingrassamento localizzato, eccetera, è tutto legato all'alterazione ormonale. Se va male a livello delle tiroide noi abbiamo un tipo di obesità, se va male le surenali ne abbiamo un altro. È tutto un complesso legato a questa sincronizzazione dell'asse neurormonale. E allora noi oggi possiamo lavorare su questo asse e abbiamo dei grossi risultati. Ecco, questo è molto interessante, perché noi abbiamo affrontato spesso questo argomento legato alla medicina estetica, però sempre cercando di risolvere un problema che è già evidente, cioè l'invecchiamento quando si palesa. Quindi poi si parla di diverse metodiche, più o meno invasive, eccetera. Qui invece stiamo parlando di un lavoro che va a monte del problema, cioè un problema interno e di equilibri. Quindi diventano davvero delle scoperte scientifiche interessantissime. Ecco, quindi come si fa appunto? Qual è l'approccio? Bisognerebbe prevenire? Come funziona a questo punto? Vabbè, è chiaro che a un certo momento c'è una diagnostica attraverso i quali si vede il soggetto com'è. Perché poi vede, prendiamo l'esempio del famoso problema delle adiposità, oppure dell'obesità. Noi sappiamo che sono due cose distinte. Allora, in generale, fino adesso che cosa si faceva? Allora, innanzitutto bisogna distinguere se abbiamo un'obesità legata al fatto che uno mangia di più di quello che consuma, allora lì è chiaro che ci fai una dieta e poi questo tipo deve correre, consumare calorie e quindi si può creare un equilibrio. Ma il problema è quando invece uno diventa obeso o ha delle adiposità legate per esempio a uno squilibrio del cortisolo, legato a uno squilibrio per esempio del T3-T4, legato a uno squilibrio dell'ipofisi. Allora, tu hai certi tipi di obesità e dove riguarda i quali la gente impazzisce con le diete, con la ginastica, non serve a niente. Cioè, se tu non vai a equilibrare quell'asse, quel sistema di asse neurormonale, endocrino, non serve a niente. Tu ritorni come prima. Infatti, ecco l'altro sistema per esempio che è molto efficace e risolve il problema. Benissimo il discorso della dieta, anche se qui noi abbiamo lanciato la cosiddetta dieta mitocondriale, perché non è sufficiente andare a fare del training fisico, puoi fare il training fisico, puoi stabilire una dieta, solo se tu mi vai a equilibrare quell'asse ormonale che si è sbilanciato. Ma nel qual caso bisogna però completare questo delasso ormonale. Per esempio, con il discorso della dieta mirata, per esempio, che si è accompagnato dall'ossigeno. Il problema dell'ossigeno nelle diete noi l'abbiamo pochissimo. Eppure a livello dei mitocondri, tutta l'attività mitocondriale avviene solo se c'è un'ossigenazione adeguata. Quindi il problema dell'obesità, oggi come oggi, siamo in grado di affrontarlo guardando tutto il problema ormonale, guardando il problema dell'ossigeno mitocondriale, eccetera, eccetera. Però bisogna conoscere appunto la dinamica di queste nuove realtà. Alcuna volta individuato questo problema o questi problemi, quando riusciamo ad avere i primi benefici, in quanto tempo potremmo rimetterci in carreggiata, chiamiamolo così? Ma in generale il discorso è questo, in base alle esperienze fatte e alla pratica, ci vogliono circa due mesi. In genere si fanno due incontri settimanali a livello ambulatoriale, cioè sono iniezioni che si fanno, come dicevo, a basso dosaggio con lo stesso dosaggio di ormoni che noi abbiamo nel sangue e poi durante la settimana si fa una cura a casa e quindi ci sono delle gocce da prendere e poi fa un certo indirizzo dietetico, ma la base invece è questo riequilibrio che è necessario portare avanti. Certo, continuando poi a parlare anche dell'invecchiamento che insieme all'aspetto dietetico è qualcosa che piace tanto perché fa parte appunto dell'estetica, forse per quello che le persone ci tengono particolarmente, anche se poi si sa è anche gran parte dedicato alla salute, tutto questo ambiente, tutto questo argomento che noi stiamo trattando. In termini di benefici, quali sono con queste nuove tecniche? Con queste nuove tecniche innanzitutto noi abbiamo come beneficio quello che è l'equilibrio di tutto il nostro organismo e quindi a un certo momento uno se vuole veramente dimagrire con la tecnica dell'equilibrio degli assi neurormonali si riesce, il fatto di se uno vuole rendere bella la pelle ci riesce, posso saltare fuori un problema? I problemi sono due, è bene che lo diciamo, poi si può approfondire di più, il problema è che un certo momento nel momento in cui uno in due mesi va giù, nei punti in cui ha questi tipi di obesità, metto per esempio la lassità a livello delle braccia, classica per le donne soprattutto, allora ecco che bisogna intervenire con delle, perché c'è questa lassità a livello del tessuto connettivale, perché molta gente qui pensa ai muscoli, il problema non sono i muscoli, il problema non sono neanche il fatto circolatorio, il problema è chi collassa, è il tessuto connettivale, ecco che adesso fortunatamente proprio in base agli studi scientifici che ci sono, ci sono tutte delle iniezioni a base di collagene studiati appositamente, per cui a un certo momento si risolve anche questa conseguenza, perché effettivamente dimagrendo parecchio e con i massaggi non è che si risolve tutta la lassità e allora si aiuta molto con questo fatto del collagene studiato scientificamente che serve anche per le operazioni neurochirurgiche, quindi questo è importante. Insomma, dimagrimento, nuovo tono muscolare, rassodamento, rassodamento dei tessuti e poi ci sarebbe anche un'altra cosa molto importante che è la cosiddetta termogenoterapia, la termogenoterapia non è altro che aumentare la temperatura corporea da 1 a 3 gradi del nostro corpo, in questa maniera le fibre nostre nervose aumentano alla velocità e a un certo momento favorisce che cosa? Favorisce quello che è cosiddetto, ci liberiamo dalle tossine, dall'inquinamento dell'acidosi metabolica che spesso viene nel nostro corpo. Grazie professor Monti, ci ha dato tantissime nuove nozioni in questo ambito, grazie davvero perché insomma sono sempre molto utili e soprattutto stiamo parlando, lo ricordo, anche di avanguardia in questo settore. Quello è poco, mi è sicuro perché è due anni che noi stiamo studiando tutte queste cose qua. Davvero, grazie e come sempre ringrazio anche voi per l'ascolto e noi ci vediamo alla prossima sempre con il benessere.